Signori, buongiorno! Oggi ci troviamo al castello di Stupinigi a Torino, guardate che roba! Adesso cercherò ragazzi di fare un video con il drone, qua posso farlo volare fino a 60 metri vediamo che cosa ci aspetta al di là di questo bellissimo castello che questa era, se non ricordo male, la tenuta di caccia del castello ok? Ci vediamo dopo raga! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!